Si è svolto a Giulianova il convegno dal titolo Selettività della rete a strascico, soluzioni innovative per una pesca più sostenibile organizzato dal FLAG Costa Blu nell'ambito del programma nazionale triennale della pesca e dell'acqua cultura 2022-2024. Il progetto ha riguardato il miglioramento della selettività delle reti a strascico attraverso modifiche alla struttura delle reti stesse e l'utilizzo di sistemi LED per facilitare la fuoriuscita del pesce sotto misura con la finalità di ridurre le catture accessori e di conseguenza i rigetti. Un progetto sperimentale che abbiamo svolto a Giulianova con la colorazione di un motopesca, il motopesca vichingo su cui abbiamo effettuato delle modifiche alla rete a strascico. I risultati sono sicuramente interessanti. Abbiamo verificato la potenzialità della maglia quadra nel far fuoriuscire il novellame non tutte le specie possono fuoriuscire velocemente dalla pezza a maglia quadra ma sicuramente gli scarti con questo tipo di modifiche diminuiscono e ovviamente gli ecosistemi in questo modo riescono ad essere più in equilibrio. Ma poco più di un mese dalla riapertura della pesca i problemi rimangono gli stessi in primis c'è sempre la questione legata al caro carburante che continua a creare grandi difficoltà al comparto. Poi soprattutto il pesce non si vende, lo vendiamo a quattro soldi e quindi non so se è dovuto a tutta questa importazione che c'è in Italia perché noi siamo in Adriatico, anche la Croazia sta in Adriatico e loro pescono sette giorni su sette e noi invece peschiamo tre giorni a settimana e non è il granché, anche due e quindi io personalmente faccio 100-110 pescate all'anno una barca come la mia e tutti gli altri come me non hanno da guadagnare, non hanno da vedere perché quattro persone a bordo di equipaggio. Come fai a pescare il gasolio, le giornate che non fai, il pesce che non va a zero? Non so se, come ripeto, si è dovuta l'importazione del pesce fresco perché qua lunedì mattina le barche croate portano San Benetto, Pescara, Giulianova arrivano i cammini piene di pesce, quindi noi andiamo a vendere il pesce a zero i merluzzi proprio niente, le mazzangoli stamattina 8 euro, non è possibile, è morti per la pesca.